Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pluneta in entrambe le direzioni. Possibili disagi a causa di lavori anche sulla 15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis Tiberina si ricorda che a causa di lavori sono chiusi gli svincoli di Balsa Vignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. Viabilità di Firenze a causa di un incidente momentaneamente chiusa via della rivoluzione ungherese con blocco temporaneo della circolazione. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!